È andata bene di fatto, perché comunque la mia squadra ha giocato bene, abbiamo giocato da ogni pari contro una squadra che era veramente ostica, in casa loro è stata una gran bella partita, purtroppo siamo partiti fortissimo, siamo andati in vantaggio di 5 punti, poi loro pian pianino hanno comunque dimostrato di essere il Nettuno che ha vinto così tanto a livello nazionale e internazionale e l'hanno recuperato. Alla fine gli abbiamo pressati gli ultimi inning, ma purtroppo siamo un po' di sfortuna, purtroppo non ci ha permesso di fare quel punticino che ci serviva per agguantare il titolo. Ora cosa succederà? Ci sarà una nuova partita subito questa sera? Sì, gara 4, è la partita aperta agli stranieri e quindi molto probabilmente il livello salirà ancora e cercheremo di fare il possibile contro questa corazzata, ecco. Grazie a tutti.